C'è un'isola con il miglior clima del mondo e acque calde e trasparenti per tutto l'anno. Preparate la valigia, viaggiate a Tenerife con Logi Travel e vivete una vacanza da solo. In questa splendida isola bagnata dall'Atlantico trovate un mix di paesaggi e colori unici, spettacolari piscine naturali e una natura protetta ampissima. Tenerife è un paradiso di contrasti dove godersi la tranquillità, la sua vivace vita notturna e le feste uniche e i pellegrinaggi. Scopri una terra di tradizione, l'impronta dei guanci e il carattere aperto e cosmopolita dei suoi abitanti, con la loro deliziosa cucina. Tenerife ti offre mille esperienze da vivere. Cavalca le onde praticando surf, kitesurf o vela. Immergersi in sorprendenti fondali, imbarcarsi in una divertente escursione per il whale watching, escursioni a piedi e in bicicletta attraverso paesaggi da film. Gioca a golf con vista mare o sorvola questo paradiso in parapentino. Durante il giorno ammirare una vista mozzafiato di Tenerife salendo sul Teide con la funivia. Di notte sogna con le stelle in uno dei cieli più puri e privilegiati del mondo. Gli amanti del lusso hanno scoperto il lusso di Tenerife. Hotel a 5 stelle, ville con maggiordomo, limousine, cene in ristoranti esclusivi. A Tenerife, 100% vita. E non c'è niente di meglio per viverlo di prenotare la tua vacanza con... Logi Travel. Entra nel nostro sito e trova la miglior soluzione di volo più albergo. Inizia il viaggio. Filtra i risultati in base alle vostre preferenze. Scegli l'hotel che più si adatta alle vostre esigenze. E scegliete il tipo di camera e la tariffa che necessitate, a vostro piacere, con tutte le garanzie. Controllate il riepilogo di viaggio e ricordate che se si desidera modificare i voli, siete ancora in tempo. Scegli la combinazione che preferisci e modifica la prenotazione. O se preferite, aggiungete un noleggio auto alla vostra prenotazione. Semplice, no? Anche se già sapete che se avete bisogno di aiuto, potete sempre contattare i nostri esperti di viaggio. Chiamaci! Vivi Tenerife e prenota la tua vacanza al miglior prezzo su...